Buonasera, buonasera Max. La cosa che più ti ha fatto arrabbiare stasera è stata la non risposta di molte seconde linee o proprio l'approccio alla partita che era tutto quello che non volevi vedere probabilmente? Le intenzioni di fare una bella partita c'erano, l'Inter ha fatto una bella partita stasera, noi ci siamo creati un po' di difficoltà, abbiamo preso il primo gol in un'uscita da dietro, poi dopo per 70 minuti non abbiamo mai dato l'impressione di poter fare gol. Dal settantesimo poi le sensazioni che avevo dalla panchina erano quelle che da un momento all'altro si potesse fare gol, paradossalmente abbiamo avuto molte occasioni per fare il gol e chiudere la partita, un po' l'abbiamo sbagliato, un po' sono stati anche un po' un bricio sfortunati, però il carcere è questo, la partita di stasera ci deve insegnare che quando si gioca alle partite di Coppa non sono mai chiuse. Anche perché io ce l'ho passato una volta da un bel 4-0 in casa con l'Arsena, poi alla fine del primo tempo tre ballini si era preso e quindi il carcere è questo, poi l'Inter è una squadra importante, ha giocato di valore, stasera ha giocato con quattro giocatori offensivi e noi bisognava essere un pochino più bravi. Diciamo che è bene tutto quel che finisce bene perché così almeno ci rendiamo conto che nel calcio per ottenere risultati si vuole sacrificio, coraggio e le partite e gli obiettivi si raggiungono quando fischia l'arbitro, non prima. Buonasera mister, quanti sono secondo lei i meriti dell'Inter ed i meriti della sua squadra, forse, mi dica se sbaglio una mia sensazione, avete sottovalutato un po' l'impegno per il 3-0 dell'andata? Se l'abbiamo sottovalutato abbiamo sbagliato e poi l'abbiamo sottovalutato inconsciamente perché la partita nel calcio sono 90 minuti, 95 da giocare e poi il calcio è strano, direi anche all'andata noi in Coppa Italia abbiamo sbloccato la partita e nelle 4-5 occasioni che avevamo avuto abbiamo fatto 3 gol. È stata la farsa rega della partita di stasera, però noi bisogna partire dal fatto che abbiamo fatto per 70 minuti una brutta partita e quindi da quello bisogna ripartire, dall'altro bisogna essere contenti perché la squadra ha raggiunto una finale, abbiamo fatto un cammino importante perché abbiamo eliminato il Torino, abbiamo vinto a Roma con la Lazio, abbiamo eliminato l'Inter, anche se ai rigori, fino ad oggi non avevamo preso neanche un gol, oggi abbiamo preso i tre tutti insieme e non abbiamo fatto neanche uno. Quindi è stato un cammino importante e vediamo cosa è positivo. Abbiamo raggiunto la finale, quello che conta è andare a giocare la finale. Ora però da domani bisogna pensare al campionato perché domenica arriva l'Atalanta. Buonasera Minister, Bonucci ha detto che è stata una delle partite più brutte degli ultimi sei anni della Juventus, se lei concorda oppure dice che nel calcio può anche capitare di fare una partita brutta. Degli ultimi sei anni non lo so perché io a due anni sono qui, quindi io posso dire solamente che anche quando, è vero che stasera non è stata una bella partita per 70 minuti, anche perché l'Inter ha tenuto dei ritmi importanti e noi ci siamo fatti trovare un pochino impreparati. Però per quanto riguarda il calcio, tutte le partite non possono essere belle e non si può giocare bene. Allora bisogna adattarsi alla partita, visto che avevamo tre gol di vantaggio, i rischi devono essere pari a zero. E poi mano a mano che passava la partita bisognava essere bravi a fare il gol e diciamo addormentare la partita. Così non è stato perché dopo un quarto d'ora abbiamo preso gol e quando vinci 3-0 dopo un quarto d'ora prendi gol hai 75 minuti che concede all'avversario per poter ripartare la partita. Non è detto che bisogna per forza giocare bene, ma anche quando giochi male devi avere solidità. La prima che le volevo chiedere è delusa qualcuno dei ragazzi che hanno giocato meno oppure no? Cosa si può imparare da questa partita? E poi il Mainz ha vinto con il Bayern Monaco, 2-1 in casa loro. Può essere una cosa positiva? A Corbaio ci giocheremo fra 15 giorni, noi bisogna pensare a noi stessi, era importante raggiungere la finale, i ragazzi sono stati bravi, non era semplice giocare stasera. Direi poi dal settantesimo in poi i ragazzi hanno fatto una buona partita. Abbiamo fatto 70-70 minuti, abbiamo fatto loro 50 minuti, abbiamo fatto noi 20 da parte finale e 30 dei supplementari. Però devo fare complimenti all'Inter perché ha fatto veramente una buona partita. Ma l'Inter è una squadra che ha valori tecnici importanti e quindi una partita con loro è sempre equilibrata. Poi, ripeto, ci sono state le due partite precedenti, in Coppa Italia e in campionato, dove gli episodi magari sono andati a nostro favore. Stasera gli episodi sono andati a loro favore. Il carcio è questo. Buonasera mister, io ho visto personalmente una buona prova di Lemina nel momento in cui è entrato, tra l'altro era un momento molto difficile. Un ragazzo giovane che era fuori da lungo tempo, che all'inizio di stagione aveva fatto bene. Grazie. Ma Lemina è entrato e ha fatto bene. Un ragazzo che è stato fuori molto per un problema al ginocchio, a tenere rotulio, ora sta discretamente bene, si deve inserire e ci può dare una mano come tutti gli altri. Volevo chiederti se hai sbagliato tu a mettere una squadra così diversa da quella che si è di solito o se ti aspetta a vedere risposte diverse dalle riserve, anche se so che non vuoi che le chiamiamo così. Avevamo sei giocatori nuovi rispetto... Nuovi, non nuovi. Diversi rispetto alla partita di domenica, ma non è concepibile giocare una partita del genere. Ripeto, e questa è la dimostrazione che quando hai diversi giovani in squadra, magari nella lettura della partita c'è meno lettura della partita. Se la partita era brutta, non riuscivamo a giocare, non è obbligatorio giocare. Basta far passare un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora, poi la partita prende un'altra direzione e tutto sembra più facile, tutto sembra più bello. Invece ci siamo incartati per conto nostro e fino al settantesimo, quando abbiamo preso il terzo gol abbiamo cominciato a giocare perché ci siamo liberati forse anche di un peso per arrivare in finale perché poi quando arrivi qui o vai in finale o viene eliminato, anche se avevi tre gol di vantaggio. Grazie. Buonanotte. Grazie.